Buon viaggio, ben trovati ancora. Muoversi in Toscana, in studio Mauro Ciutini. Vediamo subito il traffico sulle strade, autostrade della nostra regione. Pedoni segnalati in A1 tra Incisa Reggello e Firenze Sud in direzione di Firenze. C'è un veicolo fermo tra Colle Salvetti e Rosignano in A12 direzione appunto Rosignano. Sempre in A12 un altro veicolo in Avaria tra Livorno e Colle Salvetti in direzione di Rosignano. Per quanto riguarda le regionali, sulla 70 della consuma un senso unico alternato. C'è un restringimento di carreggiata per lavori dal chilometro 1,300 al chilometro 1,600, località Le Palaie. Siamo nel comune di Pelago, lavori fino al 10 di agosto. Per il momento è tutto. Muoversi in Toscana in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio, a più tardi. Grazie a tutti.